Ciao a tutti amici, io sono Vincici e oggi siamo in un nuovo video di Rainbow Six Siege con i miei amici che sono XXTheGhost, Carmine, salutate SuperBomber, che sarebbe Cristian e vai, Simusic, che è un mio amico e che Giannelli è un mio amico, che si chiama come me, Giannelli ok ragazzi, presentatevi piacere, piacere ciao tipo, ciao a tutti piacere, Cristian basta, ok, siamo su Rainbow per fare i culetti, ovviamente, giusto raga? sì, perché se no bravo, se no non c'è sfizio, bravi, sì hanno imparato tutti da me raga aspettate un attimo aspettate un attimo, mi assento tre secondi eh, se no, ho bastante allora, io sì, c'ho eh ma c'è un po' pure il mitra mitra ah, ok, va per il terro speriamo che il terro eccomi qua raga scusate per l'interruzione ne, o, ne o, mi taglia pure essa parte l'avevo pure tagliato ha staccato ma si, sto a fare il video ok raga ragazzi, che dite se lo facciamo con la danza di Rainbow questa la mi è andata tipo io no, non c'è no, non c'è vincere, vai, vincere, vincere vincere, vincere vincere, vincere 3, 2, 1 via ok, la, 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 la Rainbow Dance basta ok, vediamo un po' ragazzi, se volete faccio di questa una serie voi volete ragazzi? sì, sì, ci sto io ragazzi spallicciate se qualcuno non ci sa non fa niente si frega appunto, vincere 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 oh, oh, cazzo no, prima stavo spaccando il drone aspetta, aspetta vincere 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 ah, stanno qua non dico cazzate ma stanno qua no vincere vincere con mo mo aspetta da ma schiali schiali porto porto l'onore l'ho aspetta della sono uscita l'ho trattando si ragazzi ho fatto zero kill che bello c'è fizz da sopra anzi da dentro vabbè s davanti la 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 giudiciamo che culo carmine non l'abbiamo visto dimmi dimmi chi mette messo capitano e sciotti tutti pronti ragà tutte pronte così avvia subito dai ragazzi io ho usato la c'è se non so nel qualsiasi finestra si si giocami tutto qui la 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 non te Carmine sei forte con Blackboard con il disinnetto c'è già tu modami devastati c'è eccoli qua la giacca e Morano devastati dove stiamo noi? ragazzi ci vengono già giunti questi no vabbè faremo un video al riguardo appunto un video a parte vabbè a quello ci pensiamo io e Vinci Esposito a quello ci pensiamo io ci pensiamo noi due e tu guarda tu proprio non ci scomodare proprio no io li so glitch io li so glitch io li so glitch della casa si raga ascoltatemi siamo a fa un video ora eh beh io se non li diciamo eh beh io se non li diciamo comunque vi li facciamo il glitch si basta oh basta eh raga io mo chilo a questo abbiamo il disinnescatore sa vera quello che fa lo sborona nessuno la andiamo a punire io c'ho 70 di vita io lo conosco io lo conosco io non lo conosco ok raga eccola qua la caverna di merda sii no dai cattivo guarda che la cuoce letta occhio raga sono su cameretta levativi davanti qua levatevi levatevi leva tevi geok giuro occhio cellulari io ti ho fatto il giro dove è wow bravo bravo vinci la io me lo aspetto grande grande prova rimane un nemico come collegio raga io ho la sensazione che mi fa il giro e wow ho parlato vai a piazzare vai a piazzare si grandi raga per montare questo video ci metterò una vita che bello la 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 chi mi metto raga sai chi serve mo serve il mio calo bandit l'esaurita ragazzi se mi volete seguire su instagram mi chiamo vincenzo esposito 157 su instagram dimma bello su numero grazie e il numero degli illuminati più seri di caricatori delle pistole poi ditemi se volete domani mi dice le mini bombette così bucchiamo quando possiamo andiamo a me mi piace troppo eh dimmi tutto eh eh ancora 10 secondi l'ho rotto io 3 secondi ok ok la squadra ad attacco ha trovato una bomba prepararsi all'azione nemica allora il tuo numero no è il tuo numero di telefono se no quando c'è io tipo 500 mili scritti te chiamano tutti devi cambiare numero ragazzi ragazzi adesso io e l'ho shotta blackbird ragazzi ho shottato blackboard ragazzi sto droni di twitch di merda oh mi hai rotto il cacchio ancora ancora ma che se che se deficiente ah carmine viene ucciso con la pistola no quello non muore e io gli faccio il giro no 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 c'era cazzo vuoi fare nooo eh cazzo vuoi fare con un headshot ricarico raga è rimasto twitch il dottore è impossibile aspetta aspetta cazzo hai più vita di me christian sappi no dai raga dai conto su di voi raga questa ci sta a fare il giro non so di cazzate vabbè la potete pure aspettarlo appunto mancano 50 secondi lo sapevo che veniva da qua guarda me lo sentivo nel cuore raga e mo questi sono cazzi abbiamo avuto anche uno che di affrontare quelli scarsi appunto tanti scarsi non so però eh rispetto il rispetto degli avversari bravo io metto la claim mongoloidi mongoloidi mi sono livelli alti ma sono delle merda e stavamo perdendo eh raga noi siamo ranghi bassi e siamo forti punto solo uno è forte qui dentro come rango più alto no solo di rango però vabbè vabbè che bello ma io se fossi lui abbandonerei affermi Ma questo è D Twitch Twitch è tuo Twitch è tuo Prima che muore Twitch è morto Ok ragazzi Il video Aspetta zitti un attimo Zitti tutti Ragazzi il video Può finire qui Se volete un altro Scrivetevi nei commenti Un saluto da tutti Ciao E ci vediamo al prossimo video